Il depuratore consortile Valle Crati di Rende I carabinieri forestali del gruppo di Cosenza hanno sequestrato il depuratore consortile Valle Crati di Rende. L'operazione, diretta dalla Procura della Repubblica di Cosenza e denominata Cloaca Maxima, ha portato anche all'esecuzione di sei misure cautelari nei confronti di dirigenti ed amministratori della società Coda di Volpe, nella zona industriale di Rende che ha in gestione l'impianto. Gli indagati sono accusati di reati ambientali e sono state messe nei loro confronti delle misure interdittive. I liquami prodotti dal depuratore, secondo quanto è stato riferito dagli investigatori, finivano nelle acque del fiume Crati senza essere trattati in modo conforme alla legge. Ne derivava una condizione di grave inquinamento con conseguenti pericoli per la salute pubblica. Questa, ha dichiarato il procuratore della Repubblica di Cosenza, Mario Spagnuolo, è la più importante indagine in materia di tutela dell'ambiente mai condotta nel Cosentino. L'inchiesta prosegue, ha aggiunto Spagnuolo, al fine di individuare ulteriori e diverse responsabilità. Si accede da una botola in cemento che si apre a scomparsa scorrendo su appositi binari a circa mezzo metro sotto la superficie, completo di tutti i comfort. Parliamo di un bunker che è stato scoperto a Rosarno nel Regino. Vediamo i particolari nel servizio. Un bunker di oltre 20 metri quadrati, realizzato in muratura, è stato scoperto nel sottosuolo delle campagne di Rosarno dagli uomini della scuola mobile di Reggio Calabria, impegnati nella ricerca di latitanti. Il nascondiglio che è stato sequestrato si ritiene sia stato utilizzato da latitanti di Andrangheta. La struttura, completamente interrata e mimetizzata con lo stato naturale dei luoghi circostanti, è sorvegliata da alcune micro telecamere esterne nascoste nelle vicinanze. Al bunker si accede da una botola in cemento che si apre a scomparsa scorrendo su appositi binari, a circa mezzo metro sotto la superficie. Dalla botola, attraverso un pozzo verticale, si entra in un cunicolo corridoio lungo circa 9 metri che conduce alla stanza bunker munita di illuminazione elettrica, letti, cucina e bagno. Dalla scoperta del bunker è stata informata la DDA di Reggio Calabria. Gli esperti della polizia scientifica hanno effettuato accertamenti alla ricerca di tracce utili. Ancora cronaca, acquistavano immobili ed altri beni con il denaro di un'associazione sindacale. Sono state indagate due persone nel Vibonese con l'accusa di autoriciclaggio e appropriazione in debita. A Vibo Valencia dai finanzieri del comando provinciale è stata eseguita una misura cautelare patrimoniale su richiesta della Procura della Repubblica con la disposizione del sequestro di appartamenti, case al mare, autovetture, conti correnti bancari e postali, depositi al risparmio, polizie assicurative, fondi pensione e conti deposito titoli per un valore complessivo di oltre 3 milioni di euro nei confronti di due soggetti responsabili di un'associazione sindacale operante nella provincia vibonese. Dall'inchiesta è emerso anche che il denaro riscosso negli anni dell'associazione invece di essere impiegato per il perseguimento delle finalità statutarie, di quest'ultima veniva attraverso una serie di operazioni bancarie, distratto, depositato su conti correnti bancari riconducibili agli indagati ed utilizzato per fini squisitamente personali. Secondo le contestazioni mosse dalla Procura, i soldi distratti servivano per l'acquisto di appartamenti in città d'arte, case in rinomate località balneari o venivano spesi presso esercizi commerciali che trattano elettrodomestici, articoli di ottica, calzature ed altro. All'esito delle investigazioni coordinate dal sostituto procuratore della Repubblica del Tribunale di Vibo Valencia ha ritenuto la sussistenza in capo agli indagati non solo del reato di appropriazione in debita aggravata ma anche quello di autoriciclaggio avendo gli indagati reimpiegato le somme di denaro sottratte in attività economiche, finanziarie o speculativi in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. I carabinieri della stazione di Fagnano Castello nel Cosentino hanno arrestato nella serata di ieri in flagranza di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un quarantenne pregiudicato del posto. L'uomo è stato fermato e controllato dai militari mentre era a bordo della sua autovettura. A seguito di una perquisizione personale e veicolare i militari intervenuti hanno rinvenuto nell'incavo presente nelle vicinanze del pedale della frizione ben occultato un involucro in cellofan contenente circa 10 grammi di cocaina e nella tasca della portiera anteriore destra un bilancino di precisione. I carabinieri si sono recati successivamente nell'abitazione quarantenne dove hanno trovato 500 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana custodita in una confezione in plastica per lui al momento degli arresti domiciliari. Cambiamo decisamente argomento fusione dei comuni di Corigliano Calabro e Rossano arriva il sì anche da parte della regione Calabria. Paola Chiodi La città unica Corigliano-Rossano sa da fare e si farà. Dopo tre mesi dal referendum popolare che ha visto i cittadini esprimersi sulla volontà di unificare il territorio arriva il sì anche dalla regione Calabria approvando la legge che era stata presentata nell'ottobre 2016 da Giuseppe Graziano e che renderà i due ex comuni la terza città più grande della Calabria è la prima in provincia di Cosenza con quasi 80.000 abitanti una nuova pagina istituzionale e politica è stata più volte definita una fase storica per la Calabria da oggi, ha detto Graziano, la nuova città è ormai una realtà nelle attese e nelle speranze della gente ora si apre la fase più impegnativa ha dichiarato invece il presidente della regione Calabria Mario Oliverio quella della costruzione della città è un processo inarrestabile che non bisogna ostacolare né rallentare è necessario che tra l'inizio della fusione e l'elezione dei nuovi rappresentanti ci sia un accompagnamento ed un sostegno e noi stiamo lavorando in questo senso ma c'è anche chi in consiglio regionale ha votato negativamente come il consigliere Orlandino Greco che ha dichiarato e mancato ciò che invece occorreva il preventivo studio di fattibilità con annesso il progetto della nuova città dove disegnare l'insieme godibile da parte della collettività lasciata così ignara ed inconsapevole nelle determinazioni del consenso referendario un referendum continuo a Greco dove ha vinto il sì ma che ha registrato una bassa frequenza al voto rappresentando un gap democratico decisamente sottovalutato ora il testimone passa alla prefettura che nominerà un commissario e darà il via alle elezioni amministrative nel frattempo il 31 marzo nascerà ufficialmente la città unica la sconfitta contro il Lecce non ridimensiona il campionato del Rende vera rivelazione del torneo il momento della squadra calabrese nelle parole del tecnico Bruno Trocini sentiamo il Rende non deve cambiare atteggiamento non deve cambiare atteggiamento sarebbe un errore madornale da parte nostra che certamente non faremo quando in questo momento chiaramente parlare di salvezza a 34 punti suona un po' male però si deve continuare a parlare in questo senso dal punto di vista a mio avviso proprio dell'atteggiamento della voglia di continuare a faticare giorno dopo giorno della umiltà con la quale bisogna porci di fronte ad avversari sicuramente sulla carta più quotati di noi che però non è detto che poi in campo lo siano più forti di noi questo stiamo dimostrando ripeto non dobbiamo assolutamente cambiare atteggiamento e modo di pensare Da un punto di vista alla rosa lo diceva anche lei il Rende dovrebbe pagare Dazio con tantissime squadre ma in realtà sono tutte le altre squadre che pagano Dazio con il Rende questo cosa significa? Cosa ci mette di più il Rende? Probabilmente siamo stati bravi a scegliere i ragazzi che forse qualcun altro in passato non è riuscito a vedere parlare a questo punto di miracolo forse un po' eccessivo perché veramente i ragazzi stanno dimostrando di essere all'altezza quindi dimostrano di avere qualità anche in questa categoria noi siamo stati bravi la società è stata brava a scegliere questi giocatori siamo bravi probabilmente a farli star bene qua nel quotidiano poi l'entusiasmo chiaramente a fare tutto il resto da noi è comunque una categoria da C che manca da tantissimi anni quindi dal punto di vista emozionale la squadra affronta ogni partita come se fosse veramente una finale e per questa prima edizione è tutto io vi aspetto più tardi per ulteriori aggiornamenti vi ricordo di consultare il sito www.calabrenews24.it grazie